Benvenuti al sesto capitolo di Impara l'Orienteering. Serie di lezioni promossa dalla Federazione Italiana Sport Orientamento. Oggi parleremo di curve di livello. Ogni tipologia di mappa ha come scopo quello di rappresentare la realtà utilizzando una simbologia specifica. Vengono realizzate secondo il punto di vista dall'alto e il risultato è un foglio di carta ricco di simboli e colori. Ma ovviamente abbiamo una rappresentazione bidimensionale. Come possiamo allora rappresentare la tridimensionalità della realtà? Questa montagna, ad esempio, vista dall'alto, non è possibile capirne con precisione la sua altezza o i vari movimenti del terreno. Tutto questo è reso possibile dalle curve di livello, chiamate propriamente isoipse, che ci permettono di immaginare la morfologia del terreno. Quindi possiamo rappresentare ogni cresta e ogni avvallamento di questa montagna. Le curve di livello sono delle linee immaginarie che uniscono tutti i punti che sono alla stessa altitudine. La differenza di quota tra due curve adiacenti è sempre pari al valore dell'equidistanza indicato sulla mappa. Quindi più le curve di livello sono ravvicinate tra loro, più il terreno sarà ripido. Mentre più il terreno sarà pianeggiante e più verrà rappresentato da curve di livello distanti tra loro. Ovviamente non le troveremo mai disegnate sul terreno, sono presenti unicamente sulla nostra mappa. Eppure le risaie possono essere considerate come un'eccezione. Avendo la necessità di creare un terrezzamento perfettamente livellato per impedire che l'acqua defluisca, le risaie sono perfetti esempi di curve di livello. Nel caso dovessimo realizzare una mappa d'orentina in due una risaia, praticamente avremo vita facile nel disegno delle curve stesse. Come in questo caso. Gli unetistico esperti utilizzano proprio le curve di livello come elemento fondamentale per il ritrovamento dei punti di controllo nel bosco. Questo perché il terreno difficilmente muta nel tempo. Se proviamo a semplificare questa mappa spogliandola di tutti gli elementi, alla fine quel che ne rimane sono le curve di livello che rappresentano dettagliatamente la morfologia del terreno. Per poter rappresentare la pendenza di un terreno, vengono utilizzati dei trattini che partono dalle curve di livello e, come se fossero delle piccole frecce, indicano la direzione della discesa. Questi sono chiamati trattini di pendenza e vengono solitamente posizionati sugli avvallamenti. Avrete certamente notato che ci sono delle curve più spesse di altre. Vengono chiamate curve maestre e sono posizionate ogni cinque curve normali con il semplice scopo di semplificare il conteggio delle stesse. Se ad esempio l'equidistanza è di 5 metri, tra una curva maestra e l'altra ci sono 25 metri di dislivello. Esiste anche un altro tipo di curve chiamate ausiliarie. Quando l'equidistanza impedisce di rappresentare delle forme del terreno evidenti che sono presenti tra una curva di livello e l'altra, viene utilizzato questo tipo di curve tratteggiate. Prendiamo ad esempio questa. Il cocuzzolo è all'interno di una depressione del terreno che è stato possibile rappresentare proprio grazie alla curva ausiliaria. Per cui, provenendo da sud-est, sapremo che difficilmente vedremo il cocuzzolo se non in prossimità della depressione stessa. Se non ci fosse stata la curva ausiliaria, ci saremmo aspettati di vederlo con grande facilità e non vedendolo avremmo potuto avere dei dubbi rispetto alla nostra posizione. Quest'altra curva ausiliaria evidenzia un avvallamento del terreno e nel caso noi dovessimo raggiungere il masso a nord-ovest potremmo addirittura utilizzare lo stesso avvallamento come linea di conduzione. Quindi è stata un'informazione utile sapere che lì c'era questo avvallamento. Vediamo adesso insieme se sono chiari i movimenti del terreno provando a capire quando le frecce vanno in salita, in discesa oppure in piano. Guardiamo questi esempi. La A è una freccia che si muove verso la collina, quindi va in salita. Mentre la B parte dalla collina e va verso la valle, quindi in discesa. La C non attraversa alcuna curva di livello, per cui si muove in piano. Bene, ora provate voi. Le tre frecce della lettera D come si muovono? In discesa, in piano e in salita. La freccia della lettera E, in discesa. Le due frecce della lettera F, in salita e poi in discesa. La freccia della lettera G, in piano. Le due frecce della lettera H, in discesa e poi in salita. La freccia della lettera I, prima sale sulla collina e poi scende. Le due frecce della lettera K, prima in salita e poi in discesa. Le tre frecce della lettera L, vanno in discesa, in salita e poi di nuovo in discesa. Siamo giunti al momento quiz, avete 10 secondi per segnare la lettera corrispondente alla risposta che ritenete corretta. Che cos'è l'equidistanza? A, la lunghezza di un tracciato di orientiering. B, la differenza di quota tra due curve di livello vicine. C, il fattore di riduzione della mappa. D, la superficie cartografata della mappa. La risposta corretta è la lettera B, la differenza di quota tra due curve di livello vicine. Quale tratto è il più ripido? La risposta corretta è il tratto C. Grazie per l'attenzione. Mi auguro che questa lezione vi sia piaciuta e vi invito a seguire anche le altre per imparare sempre di più sull'orientio. Ciao a tutti, da Stefano.